E' stato un anno lungo, ricco di novità e soddisfazioni. Quest'anno che è appena passato, ho deciso di affrontare diverse sfide personali. Una delle più difficili è stata produrre materiale costantemente. Tanto materiale. Far crescere il canale e portare un servizio alla community che ancora non c'era. Missione compiuta. Ho introdotto i cont, i vlog, la rubrica colazione al peperoncino del venerdì. Anche i Q&A sono diventati parte importante della mia evoluzione, che ha lo scopo di mettere in piedi un canale che sia capace di informare e condividere la mia esperienza in una maniera un po' più ampia. Perché le semplici recensioni non mi bastavano più. Non possono bastare. Insomma, 5 uscite settimanali, 5 occasioni di confronto con voi. La risposta è stata enorme, enorme e vi ringrazio tantissimo per questo. Ed è proprio per questo che la nuova stagione sarà ancora più pazzesca e voglio darvi ancora di più. Oltre alle classiche recensioni del mercoledì, cercherò di creare una banca dati per tutti. Intendo per tutti, anche per i neofiti. Voglio dare un riferimento anche per coloro che non sono esperti e hanno una valanga di curiosità. Questa rubrica sarà il lunedì tra un vlog e l'altro e si chiamerà Softair per Dammis. Mi pare che doveva chiamarsi così. E lì cercherò di informare chi non conosce questa assurda, incredibile realtà che è il software e il gioco tattico. Per cui abbiate pazienza se alcuni argomenti sono cose che conoscete già benissimo. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di saperle, di conoscerle. E poi chissà, magari vi siete persi qualcosa per strano. I cont rimarranno sempre, il martedì, e vi aspettano. Sapete che è la vostra collaborazione che serve. E se non sapete che cosa sono i cont, andate a vedere. C'è nei video. Cercate cont. E infine anche il Q&A e la colazione al peperoncino come l'anno scorso. Insomma, tante novità e tanta voglia di creare una community diversa e sempre più coesa, sempre più grande. Non mi resta che augurarvi buon anno e ringraziarvi ancora. Ciao le impallinati! Ciao!